In un'epoca di slide, di promesse, insomma, anche un po'... Dove vai Napoli? Io sono puntualissimo. Avevo già detto, avevo già detto. Vabbè, ne hai facoltà. In un'epoca in cui va di moda, come dire, fare annunci, un po' di politica, spettacolo, le slide, i pesci rossi, il centro-destra poteva fare tante scelte diverse, potevamo, come si diceva in una vecchia pubblicità, stupirvi come effetti speciali.